Gohan si trasforma in scimmione. Nell'episodio in cui Gohan si trasforma in uno scimmione notiamo che Gohan ancora non possiede una grande forza combattiva. Tuttavia, dato che anche lui è un seian, guardando la luna piena riesce a trasformarsi in scimmione, acquisendo una grande potenza. A questo punto Junior, trovandosi in pericolo, decide di distruggere la luna piena, facendo tornare Gohan come era prima. Inoltre decide anche di togliergli la coda, dato che si era reso conto che quando si trasforma in scimmione perde il controllo, diventando pericoloso per tutti quanti, quindi anche per lui.